Ciao amica creativa, benvenuta a questo nuovo appuntamento di Superchicche Creative di Arte in Corso Tarquinia. Io sono Manola e vi terrò compagnia per queste settimane a venire con un appuntamento fisso il lunedì. Tutti i lunedì mi raccomando attivate le notifiche perché sentirete il vostro telefonino che squillerà, farà un dream e a quel punto collegatevi perché tutte queste settimane, da adesso a tutti i lunedì a venire, staremo insieme. Vi svelerò dei piccoli trucchi e dei piccoli segreti per migliorare un pochino e per rendere un po' più speciale le vostre creazioni. Allora innanzitutto oggi iniziamo con una cosina molto semplice, diamo l'inaugurazione a questo primo video tutorial dedicato alle Superchicche Creative di Arte in Corso Tarquinia. Mi raccomando, iniziamo a vedere come si va a rivestire una semplice, sfera di polistirolo. Questa in particolare è una sfera diametro 5. Con delle accortezze, una tecnica molto semplice, potrete riuscire ad ottenere un risultato simile a questo. Allora siete pronte ragazze? Pronte a lavorare con me? Eccoci qua! Et voilà! Prima parte, sfera di polistirolo diametro 5. Primo ingrediente fondamentale. Secondo ingrediente è fondamentale, guardate che carino. Abbiamo sugar, abbiamo la faccina, una faccina molto carina con i cuoricini ed è molto interessante poterla lavorare. Terzo elemento, spillina con la forma diciamo di pallina tonda, rotondata, bianca, che ci serve per realizzare il nasino della nostra sugar. Poi che cosa abbiamo? Fondamentali, ci servono dei colori mia, in questo caso colori acrilici, bianco, guardate che carino, bianco, nero e rosa, rosa, rosso corallo per poter effettuare e lavorare, eccole qua, guardate, forse le metto così è meglio, poter fare delle modifiche e delle lavorazioni sulla nostra faccina. Le appoggiamo qui da una parte nella speranza che si vedano e poi le vediamo meglio da vicino. Io vi faccio vedere tutti tutti gli ingredienti. Bulino, guardate che carino, questo bulino che cos'è? È una penna con una doppia punta, più piccola e più grande, che ci serve per andare a lavorare e vedrete con me su che cosa andiamo ad applicarlo. E per finire ragazze, oltre che il filo forte va benissimo qualsiasi filo, dobbiamo avere un pennarello e noi lo metteremo poi all'interno dei nostri kit che vi farò vedere successivamente per poter accentuare, rafforzare ciglia e sopracciglia. Pronti a lavorare? Pronti e via! Prendiamo la nostra bella faccina stampata e facciamo con le nostre forbici un giro tutto intorno a togliere l'eccesso di stoffa che ci serve per poter affrancare e tirare bene intorno alla nostra faccina di polisterolo questo bellissimo visino, guardate. Allora questo è uno stampo, è un visino che può anche andare su una sfera di diametro 6. Avendo io scelto la misura del 5, devo togliere un pochino di più di bordura che trovo intorno alla mia faccina. Ok? Fatto questo, mi prendo la sfera, vado a cercare l'opposto della sfera, diciamo vado dalla parte sottosopra di questa sfera per poter mettere il mio nasino. Il nasino è fatto semplicemente da una spilla con la testina bianca. Una volta fatto questo vado a fare la prova di quello che uscirà fuori, guardate, vado a tendere il mio visino. Prima di fare questo ho bisogno di utilizzare ago, filo forte di qualsiasi tipo e vado a fare un punto cavalluccio, io chiamo cavalluccio ma potrebbe essere anche un punto filza, tutto intorno alla superficie tagliata. In questo semplice modo. Si vede ragazze? Non so se si riesce a vedere. Ok? In questo modo vado a girare, affrancare, girare, girare intorno e intorno in modo da ottenere una cuffiettina che mi servirà da inserire dentro, intorno alla mia sfera, alla mia sfera di polisterolo diametro 5. È un lavoro divertentissimo, molto veloce, semplice. Io utilizzo un ago grande perché ho la pruna grande, ho il filo grande, però l'importante è che utilizziate un filo, anche se più piccolino, e un ago più piccolino, purché sia un filo forte, che ci serve proprio per poter tirare e affrancare questa faccina intorno alla sua sfera di polistirolo. Una volta effettuato tutto il giro in questo modo, che cosa vado a fare? Vado a rivestire la mia faccina. Eccola qua, guardate che carina. Che cosa succede? Quando io vado a tirare, a tirare intorno a una sfera, a una faccina come questa, se voi fate caso, i colori tendono un pochino ad allentarsi. Adesso io vi faccio vedere. Ed è lì il divertente. Io tiro, 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 cerco di nascondere tutte le pieghettine, perché poi lì andrà messa i capelli, no? Guardate, mi si è spostato un po' il nasino, ma io ci vado un pochino a lavorare e lo vado a rimettere in asse, eh? Guardate che carino. Il nasino alla francese deve stare in mezzo ai due occhietti. In questo modo, eccolo qua, io giro la mia sfera, faccio un paio di giretti di affrancatura e faccio un odino al filo. Eccolo qua, guardate che carino. È semplicissimo, divertente, non è difficile. E soprattutto per chi ha difficoltà tra di voi, magari a realizzare occhietti, perché magari ancora è alle prime armi. In questo modo, con la faccina già pronta e stampata, riesce ad ottenere un effetto molto, molto carino. Primo passaggio, semplice e molto, credo, elementare. Tutto chiaro, ragazze? Spero proprio di sì. Eccolo qua. Il mio nasino e i miei occhietti. Se voi fate caso, guardate. La faccina che ho io già realizzato, ve la faccio vedere, guardate che carina. Questa realizzata da me, questa qua. Vedete che ha un'espressione molto più viva rispetto all'altra? È perché io sono andata ad intervenire con i colori, questa tipologia di colore. Eccola qua. Ho realizzato il nero degli occhietti, il punto luce con il bianco, e la boccuccia con il rosa, il rosso corallo. E ho dato, ho reso più vivo e particolare la mia espressione. Perché altrimenti sarebbe troppo, troppo, vedete, leggera. E allora come interveniamo? Che cosa facciamo? In maniera molto semplice. Partiamo dal nero. Eccolo qua. Queste le mettiamo in questo modo, così le nostre amiche da casa possono vedere la qualità e la tipologia del colore. Miscelo. Vado ad aprire. E utilizzo il mio bulino, è semplicemente il bulino. Posso prendere un pennellino, ma anche questo mi può andare bene. Che cosa faccio? Vado semplicemente a contornare e rivestire i miei occhietti. Andiamo. Guardate che carino, divertentissimo e velocissimo. Eccolo qua. Occhietto, occhietto. Vedete già come risalta e come diventa più scuro? L'espressione acquisisce un altro significato. Questa è una delle nostre prime superchicche, ragazze. Mi raccomando, continuate a seguirci. E cercate di attivare la notifica. Perché attivando la notifica, sentirete un dream ogni lunedì. E vi potrete collegare con noi e stare un pochino insieme. Per svelare piccoli trucchi e procedere andando avanti verso la nostra creatività, ragazze. Io vi aspetto, eh? Vi aspetto sempre. Eccoci qua. Guardate che carino. Adesso, una volta fatto il nero, aspetto un attimino che si asciughi. Una volta asciugato, vado a contornare adesso. Togliamoci questo. Benissimo. Vado a fare le mie sopracciglia. Uno e due. Uno e due. E poi ciglia. Eccoli qua. Mentre il nero si sta asciugando, io pulisco il mio bulino, tolgo il nero e vado a prendere il bianco. Miscello, miscello, miscello. Opla, scusate, è volato via. Miscello, miscello, miscello. Ed eccolo qua, il mio bianco, che mi servirà a potenziare sia le guanciotte. Vado semplicemente a rivestire, ricoprire, quello che già io vedo sotto. Ed è veramente, veramente divertente. Ok? Noi abbiamo creato un piccolo kit per poter fare questi esperimenti che vi servirà poi a realizzare tutte le altre bamboline che andremo a vedere insieme. Ora iniziamo dalla cosa più facile. Realizziamo una bambolina con un viso già stampato. Poi, soffiamo, soffiamo e a questo punto, punto di luce. Da una parte, punto di luce dall'altra. Guardate che carina come comincia a prendere espressione. Guardate che amore. Per finire, chiudiamo, barattolino, voilà! prendiamo l'altro colore, eccolo qui, e giriamo, 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 andiamo a fare la nostra boccuccia. Rosa. Eccola qui. Guardate. Et voilà! La nostra faccina facile, divertente, veloce. ecco tutto il nostro lavoro terminato. Vedete com'è semplice? Vedete com'è carina? Guardate ragazze, sono due sorelle gemelle. Allora, amica creativa, ti è piaciuto stare insieme a me? A me è piaciuto tantissimo. Piccole super chicche, pillole creative di Arte in Corso Tarquignas. Tutti lunedì attivate la notifica, mi raccomando. oggi vi salutano le due gemelle Sugar o Sugar come le volete chiamare voi per poterle realizzare per chi sarà interessato abbiamo pensato a fare un kit. Mi raccomando, scriveteci al 328 900 4879 per avere informazioni. Questo è il kit per realizzare Sugar. Noi vi ricordiamo che siamo presenti su tutti i social da YouTube a Instagram, TikTok, pagina Facebook e poi se volete trovarci 328 900 4879. Non ultimo il nostro super sito e-commerce www.tiridarte.it Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo lunedì, un bacione a tutte, ciao amica creativa, a presto! Ciao ciao!